Quattro pianisti Baria Piano City è una rassegna pianistica che arriverà consecutivamente e che prevede la presenza di quattro importanti pianisti, non soltanto siciliani ma italiani, che si esibiranno nella sala Borremans di Palazzo Butera a Bagheria ed è una rassegna inserita nella stagione concertistica Città di Bagheria, che è all'ottavo anno e che entro quest'anno concluderà con circa 86 concerti creati all'interno proprio del territorio bagherese valorizzando le ville, i patrimoni architettonici della città di Bagheria, anche le chiese storiche, anche quelle moderne, insomma nel tessuto territoriale della città di Bagheria. Creare una rassegna come Baria Piano City che in realtà è in collaborazione con l'Ars Nova di Palermo per il proprio anniversario cinquantesimo di fondazione, voluto dal maestro Claudio Gallina sotto la presidenza del dottor Pirrotta, abbiamo fatto questa fusione perché in verità uguale la stessa rassegna viene anticipata anche a Carini nel Castello di Carini, quindi facciamo a Carini, la facciamo a Bagheria, ma Bagheria è proprio inserita all'interno della stagione concertistica Città di Bagheria, è un primo tentativo, ce ne saranno probabilmente altri e particolarmente interessanti sul prossimo anno, se riusciamo sempre che troviamo le giuste sinergie tra noi che siamo artisti, noi che siamo organizzatori e ovviamente le istituzioni che devono appoggiare il nostro operato a beneficio della cultura siciliana, in questo caso non è soltanto territoriale perché se tu fai una stagione utilizzando le grandi forze musicali che ci sono soltanto sul territorio è una cosa diciamo locale, in questo caso noi facciamo venire artisti da tutto il mondo e quindi Bagheria, la stagione concertistica Città di Bagheria è effettivamente come il Ministero ci ha detto qualche anno fa patrimonio europeo culturale.